Ciao a tutti! Dato che Dio non va in vacanza, e invece voi sia, abbiamo deciso di farvi fare questo piccolo concorso e di farvi fare delle foto nelle vostre fantastiche vacanze estive. Per i bambini del primo anno il tema sono le meraviglie del creato. Per i bambini del secondo anno il tema sono i gesti di cura e attenzione per il creato. Per i bambini del terzo anno invece sono i gesti di cura e attenzione verso le persone. Per i bambini del quarto anno il tema è lo stare in comunione. Per i bambini del quinto anno sono dei segni di speranza. Per i bambini del sesto anno la forza dello spirito. Per i bambini del secondo anno il tema sono i gesti di cura e attenzione verso le persone. Questo è quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto degli esempi un po' stupidi per fare un po' ridere, ma voi fatelo bene. Mi raccomando, inviate le foto ai vostri catechisti e qualcuno vincerà il concorso. Preparatemi per questa fantastica estate e vi auguro il meglio. Ciao ragazzi! Ciao!